Me and my swing Le nostre interviste Siamo con Laura Lonardi, l'ultima volta che ti abbiamo incontrato hai vinto gli internazionali femminili a Castel Gandolfo Poi com'è andata? Bene, bene, è stata una stagione bellissima sono molto contenta, ho ottenuto dei risultati che per me sono molto buoni, quindi bene Cosa farai nella pausa invernale, su cosa lavori? Su tutti gli aspetti del gioco, dallo swing, agli approcci, al patto, un po' tutto Da quanto tempo è che sei nazionale? Questo è il secondo anno E ti trovi bene? Sì, sì, benissimo I maestri sono tutti bravi, li vuoi salutare? Sì, sì, ciao a tutti Chi è la più simpatica e la più antipatica del corso della nazionale? A parte Roberta Liti, lo ripeto, già in un'altra intervista l'ho detto Sì, no, va vero, Roberta Liti vince il premio antipatia proprio senza chance E Stefania avanza, a quanto pare, è sua amica E la più simpatica, boh, non saprei No, Roby Cosa prometti a Golf Today per il 2013? Cosa vinci? Per noi, chiaramente Cosa vinco per voi? Eh, non lo so Però ve lo giuro, qualcosa vinco Salutaci nel tuo dialetto, ma soprattutto saluta il tuo ragazzo Oddio Ciao Filippo E nel dialetto? Ciao Filippo